salve a tutti amici sono mr delrick ben ritrovati qui sul mio canale e ben trovati ragazzi sulla prima puntata sì perché effettivamente la prima puntata di real politics prima puntata di questo gameplay che come potete vedere stiamo cominciando con la russia visto che molti di voi mi hanno consigliato la russia nonostante avrebbe dovuto vincere l'italia però giustamente ragazzi ce ne sono già molti di gameplay in questo momento su youtube riguardo l'italia per cui magari se vogliamo in un secondo momento sarei anche contento di prenderla in mano e magari di di trattarla però magari per un qualche cosa di diverso per vedere un qualche cosa di diverso potremmo iniziare con la russia poi un paio di voi ragazzi hanno avuto l'ardire il coraggio di dirmi malta fai malta questa cosa qui così malta ma come c'è con tutto il rispetto è per malta e maltesi mi raccomando ma come si fa a giocare con malta cosa fai è già tanto se sopravvivi probabilmente fino al 2100 io non lo so vabbè comunque sia mi avete proposto alcuni la germania alcuni mi hanno proposto cosa anche la svezia se non vado errato comunque comunque sia inizieremo con la russia vediamo un pochino come siamo messi allora d'accordo ortodossia siamo un totalitarismo nonostante le previsioni per le prossime elezioni ma ci sono anche delle elezioni dicano che dovremmo arrivare all'autoritarismo per cui dovremmo anche fermare questa scesa perché mi interesserebbe mantenere il totalitarismo e per farlo allora vediamo che l'interventismo aumenterà a breve aumenterà e questo va bene perché più interventismo abbiamo più siamo verso l'autotalitarismo però vediamo anche che il controllo tenderà a diminuire un po' quindi magari dovremmo fare delle mosse per tenere un po' più alto il controllo e vedo che anche il militarismo diminuirà tantissimo ma diminuirà veramente tanto probabilmente questo è il modificatore prevalente che ci farà spostare verso l'autoritarismo quindi dovremmo arginare questa perdita di militarismo una crescita di popolazione siamo con uno 0,05 per cento abbiamo 15.700 che ovviamente è un numero di cittadini in età produttiva penso che sarà diciamo così un numero come si può dire fittizio giustamente questo ci va ad influenzare ad esempio i punti azione che vedo che sono 50 proprio per la popolazione tra l'altro abbiamo tantissimi punti azione per turno rispetto a quanto potrebbe averne un'italia ad esempio come vedevamo nella puntata precedente ne abbiamo sempre 30 di base ma siccome la russia ha tantissime province ma proprio tante perché molto estesa la maggior parte di questi territori sono assolutamente inospitali infatti secondo me per l'estensione che ha pochissima popolazione ovviamente ma la siberia non è un posto facile da vivere abbiamo 114 grazie alle province per cui devo dire che il numero più alto è proprio grazie a questo 50 per la popolazione 23 per l'assetto industriale abbiamo già una borsa valori quindi questo già una mossa in meno che dovremmo fare costruirne una dovremmo probabilmente solo farci entrare i paesi che vogliamo abbiamo un blocco con la bielorussia che attualmente ci sta succhiando solo un punto azione per cui mi va anche bene mantenerlo così com'è e poi abbiamo dei programmi e degli eventi che sono attualmente attivi e che ci danno quindi questo malus abbiamo uno sviluppo umano di 50 che anche questo non è elevatissimo ma insomma ok a livello economico abbiamo non abbiamo molti fondi non abbiamo molti fondi abbiamo un debito pubblico anche basso in realtà però ne stiamo guadagnando davvero pochi di fondi per cui dobbiamo lavorare molto sulla nostra borsa inizialmente abbiamo poco debito e questa sarà la prima cosa che noi dovremmo andare a livellare a togliere perché stiamo guadagnando 21 in meno ogni mese per colpa di questo debito stiamo mantenendo le tasse al minimo che nonostante questo siano un 33% e questo ci permette di avere uno dei pochi paesi iniziali no non è uno dei pochi paesi ma abbiamo sempre ben presente l'Italia con un PIL in positivo e proprio per questo volevo vedere come stava messo il PIL abbiamo una crescita del PIL appunto di adesso intanto abbiamo a 2187 abbiamo una crescita dello 0,36 ok va bene uno sviluppo economico attualmente basso adesso vedremo un attimino di aumentarlo allora ecco la disoccupazione è elevatissima infatti qui ci viene detto che una delle cose da dover badare sarà proprio la disoccupazione abbiamo slot in borsa che adesso dovremo utilizzare e abbiamo due programmi da attuare c'è già una guerra in atto guerra fondaio l'Iran allora cos'è che abbiamo? Iran che sta combattendo contro 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 l'Armenia contro l'Armenia Iran e Armenia che stanno combattendo tra di loro e già l'Unione Europea ha dato loro 60 punti di guerra fondaio di livello guerra fondaio allora andiamo a fare innanzitutto subito nella borsa valori abbiamo tre paesi da poter introdurre allora vediamo andando avvicino qual è il potenziale di questi paesi vediamo che c'è un numeretto qua per esempio 7 la Francia non è male come partenza che ha 7 il Regno Unito ha già un suo un suo mercato andiamo a vedere per esempio la Turchia ha 9 più della Francia per esempio potrebbe essere un'ottima scelta però volevo vedere il Canada e gli Stati Uniti già hanno il loro la loro borsa per cui andiamo vediamo un pochino anche l'India l'India 14 per cominciare andiamo subito a chiamare l'India e la invitiamo ok e ovviamente aumentiamo il valore di mercato spendendo dei punti azione incrementando ovviamente il guadagno che avremo abbiamo poi da scegliere un altro paese non ce ne sono molti è anche la Corea del Sud uno soltanto di potenziale non è non è molto questo ha anche uno no niente mamma mia c'è addirittura il Messico uno via allora abbiamo visto che ci potrebbe essere di valido la Francia la Turchia e allora io direi che potremmo scegliere questi paesi che mi sembrano quelli che hanno un potenziale più elevato allora vado per la Turchia ok poi il guadagno che noi avremo che attualmente appunto è adesso non abbiamo neanche abbastanza punti azione per cui dobbiamo andare avanti dobbiamo invitare allora nuovo incarico programma di miglioramento nazionale ebbè tanto adesso dobbiamo per forza far passare un attimo avanti il tempo perché uh siamo con i fondi siamo in negativo addirittura e sicuramente siamo in negativo sia per mamma mia i programmi i programmi ed eventi ce ne stanno togliendo tantissimi ce ne stanno togliendo tantissimi allora devo andare a vedere un attimino che cosa che cos'è che ci sta togliendo tutto questo denaro allora innanzitutto abbiamo puntato sull'energia nucleare abbiamo più malcontento però la crescita del PIL c'è abbiamo le leggi di lavoro avanzato abbiamo la maternità per esempio la maternità vedete un costo di mantenimento abbiamo anche i fine settimana liberi ma va bene d'accordo ci può stare questo però aumenta la disoccupazione serve per il malcontento e serve per l'intervenzionismo io questo per esempio lo potrei togliere visto che vorrei combattere la disoccupazione ad esempio vedo che qua siamo già molto avanti progetto per le autostrade avanzate l'industria mineraria guardate quanto quanto mantenimento guardate che razza di roba questo è per la crescita del PIL si d'accordo abbiamo un PIL in positivo però allora la burocrazia vedete qua dovrei farla per no c'è l'aumento però della disoccupazione anche qua no niente potremmo puntare a questo che però anche questo è un costo di mantenimento niente dobbiamo aspettare dobbiamo aspettare un attimo abbiamo puntato tutto sull'industria va bene questa è l'economia eh ragazzi siamo arrivati solo fino a qua dobbiamo aumentare gli slot aggiuntivi poi dovremmo andare avanti qua eh comunque vediamo un po' di politica interna per esempio anche questo sarebbe una bella cosa però vedete che è un costo di mantenimento mantenimento niente dobbiamo lavorare molto sulla borsa dobbiamo lavorare moltissimo sulla borsa politica di immigrazione vedete aumenta la crescita malcontento più uno controllo meno uno questo per esempio non mi interesserebbe attualmente vediamo ancora più qua oh vedete c'è il dipartimento di controllo della società eh media nazionali la propaganda malcontento meno due ok addirittura la censura però ci aumenterebbe solo il punteggio il lavaggio del cervello malcontento meno otto controllo più quattro questo è bellissimo però cosa costa eh ha un bel costo ha un bel costo in effetti 971 giorni è tantissimo ci impiega però ad attuarsi ma veramente tanto eh quasi tutto vedete ha un un costo in di mantenimento eh il malcontento allora devo cercare di rientrare un po' il malcontento meno un per cento io questo per esempio lo potrei disattivare per il momento e sicuramente anche questo problema qua è dato dal eh lo togliamo un attimo che rientriamo un pochino però sicuramente questo problema non sto neanche commerciando e potrei invece farlo perché potrei fare eh appena sarà possibile fare delle delle infrastrutture d'esportazione ed esportare la quantità enorme di risorse naturale che io ho perché comunque ho un sacco di testate nucleari e riesco già a gestirle con tutte ste risorse però potrei fare un'esportazione regolare minima per guadagnare qualche soldo in più ok stavo valutando che abbiamo anche un esercito che probabilmente è abbastanza grosso coste di produzione tempo di reclutamento il mantenimento 1 probabilmente è proprio questo abbiamo 90 se vedete capacità abbiamo 90 su 85 per cui dobbiamo ridimensionarle allora riduciamolo subito da 28 dunque devono essere una quindicina allora io direi che potremmo fare per esempio una decina di uomini potremmo togliere neanche ne facciamo 8 eh ma sono già sono già dentro sono già dentro allora scusami ne compriamo un altro ok siamo di nuovo in positivo però io spererei adesso che questi fondi vedi che vanno adesso a risalire perché la borsa sta cominciando a fare un qualche cosa intanto vediamo anche gli incarichi che abbiamo scusatemi perché giustamente c'è il programma di miglioramento nazionale il nostro paese potrebbe trarre benefici da un programma di miglioramento generale avvia il programma un progetto di sanità avanzata che ci darebbe questi punti programma di miglioramento nazionale il nostro paese potrebbe trarre benefici da un programma di miglioramento generale avvia il programma centro di combattimento tattico questo per esempio mi sarebbe molto utile probabilmente sì perché aumenterebbe l'indice di sviluppo aumenterebbe la crescita dei danni da guerra le tattiche di guerriglia militarismo più avanzato sì sì questo per esempio è molto utile che potremo fare e poi cos'altro c'è domine i mari avvia un programma unità navali ok tra l'altro scusatemi io volevo controllare una cosa nelle forze armate proprio bellissimo allora la wow wow allora la russia ha già una produzione di armi sua una produzione bellica sua cioè noi potremmo addirittura venderle ok non le importiamo le creiamo proprio noi e questo è bellissimo vedete ci sono le unità navali che potremmo potenziare adesso capisco molte molte cose ok allora ricontinuiamo ecco che i fondi vediamo che piano piano cominciano ricontinuano ad aumentare ma dobbiamo fare dobbiamo fare un po' di punti azione e un po' di soldi adesso anzi come prima cosa io direi già da subito saldiamo il debito non importa paga tutto e adesso guadagneremo decisamente molto di più ok abbiamo fatti 83 per turno che cosa succede guerra il sudan con il sudan del sud abbiamo già abbiamo già qualcosa di brutto qua eh abbiamo già qualcosa di brutto ma com'è possibile ok ma scusatemi la giordania ok l'arabia saudita ok va tutto bene ah tra l'altro ci sono queste cose qui che è una rotta commerciale fondamentale fornisce costantemente introiti di denaro e punti azione al paese che lo controlla queste sono delle cicciate ci sono dei punti di qua e di là in grecia per esempio vedete anche qua ci si potrà arrivare lo sapremo solo vivendo intanto vediamo un attimo anche le armi nucleari vedete abbiamo 150 testate e siamo il primo paese attualmente al mondo con questa quantità di testate nucleari ok andiamo avanti abbiamo catturato delle spie dell'italia già l'italia sta rompendo il cazzo con le spie abbiamo fatto la nostra unità di fanteria guerra ok hanno peggiorato le relazioni nel nostro blocco questo va molto male al che allora con diplomazia cerchiamo di migliorare le relazioni con la bialorussia spendendo 10 di denaro e 30 di punti azione ci vorranno un po' di turni ok intanto siamo già diventati no scusatemi siamo ancora un totalitarismo però devo aspettare un pochino di tempo per avviare i programmi che mi interessano allora no volevo fare a livello di forze armate aumentare ecco sicuramente questo però mi servono erca miseria mille punti azione mi servirà un pochino beh intanto però abbiamo i punti azioni sufficienti per aggiungere un altro mercato e aggiungiamo la Francia ok investiamo e facciamo aumentiamo quindi ulteriormente il guadagno mensile allora ok abbiamo migliorato con la bialorussia le nostre relazioni guerra ma aspetta un attimo guerra tra sudan ma tra l'altro aspetta c'è un'ulteriore guerra la repubblica democratica del congo ma cosa sta succedendo ma dai c'è una repubblica ci sono già scissi la repubblica del congo e la repubblica democratica del congo stanno venendo fuori delle cose turche ma anche ma eccolo qua eccolo qua il sudan con il sudan del sud ma esiste no cazzo che non esiste che cosa è sta roba pazzesco qua vedete si può vedere un attimo com'è il discorso della guerra e a quanto pare sta vincendo il sudan attualmente ok torniamo a far andare avanti il tempo allora dobbiamo pensare anche al discorso di disoccupazione e io direi che forse è la prima cosa che dovremmo adesso valutare e dunque ci serve questo madonna mia però servono troppi soldi veramente troppi soldi e troppi punti azione dunque vediamo un pochino sul discorso della disoccupazione lo statalismo fine settimana liberi abbiamo visto che bisognerebbe toglierlo probabilmente però togliamo anche interventismo facendo questa cosa collettivi agricoli qua in fondo eh eh non è male non è male ha un mantenimento troppo grosso però ma stiamo scherzando no mamma mia di 222 di mantenimento ma stiamo scherzando burocrazia digitale ecco questo lo potremo fare no però crescita crescita della disoccupazione questo la fa crescere e la burocrazia la burocrazia l'abbiamo già fatta eh niente bisognerà aspettare un attimo qua a livello di economia vediamo se ci sono combattere la disoccupazione questo ha un mantenimento però lo possiamo attivare e disattivare quando ci pare piace vediamo a livello di politica interna non abbiamo niente delle forze armate non abbiamo niente eh c'è poca roba purtroppo per la disoccupazione bisognerà aspettare bisognerà semplicemente aspettare perché comunque è in calo eh la disoccupazione siamo già ai 14 e 66 ci vorrà solo tanto tempo perché comunque la crescita è di allo 0,05 quindi diminuiamo molto lentamente ma diminuiamo non abbiamo abbastanza soldi per fare un cazzo attualmente nuova proposta dell'Unione Europea una nuova risoluzione allora fammi vedere che cosa cazzo hanno proposto attacco ai totalitarismi ma certo che sono contro guarda tutti sono per che cazzo vuol dire cosa comporta ottengono un permesso di attaccare qualsiasi stato totalitario cos'è vogliamo già andare in guerra vogliamo già andare in guerra tra l'altro io sono terzo adesso in classifica quarto questi figli di di vacca guarda terzo e quarto Lussemburgo che ora parte del blocco di Francia orco piano piano Svizzera ora parte del blocco di Germania qua si stanno formando un bel po' di blocchi tra l'altro il Libano è parte del blocco dell'Egitto Bangladesh blocco dell'India Lussemburgo va bene ok questo non me ne frega Canada ok Sudan ok controllo dei mari nuovi incarichi problemi di miglioramento questi sono gli incarichi va bene allora abbiamo una crescita del PIL che è molto interessante però quando avremo abbastanza fondi perché adesso dovremo lavorare più che altro sul discorso fondi puttana miseria qua ci daranno guerra gli unici che vedete gli unici contro sono sono no noi bastardi Armenia ha dichiarato bancarotta trattato di pace tra Iran e Armenia allora invece di stare a leggere lì io vorrei un attimino vedere anche all'interno del blocco che cos'è che possiamo fare un attimo di pausa la moneta comune andrebbe ad aumentare il PIL libertà di movimento per esempio per la crescita della popolazione allora uniformazione delle instaura la stessa organizzazione burocratica e quindi mantenere blocco meno 20% per l'amor di dio il mantenimento non è neanche così grande perché è meno uno però si potrebbe avviare per esempio questa cosa organizzazione dell'esercito aumenterebbe il limite autonomie locali mantenimento del blocco più 30% capacità però delle unità massime meno 10% allora centralizzazione anche diminuirebbe il mantenimento del blocco perché no perché no perché no perché no proviamoci avviamola questa cosa tanto con uno non è che possiamo fare cioè non è che guadagneremo chissà che cosa però intanto partiamo guadagniamo molto poco noi adesso però e vorrei capire il perché stiamo guadagnando così poco perché il discorso delle borse qua fa un po' cacare e siamo in continua diminuzione adesso l'esercito è rientrato no siamo addirittura in negativo adesso cosa cazzo è che sta andando storto si può sapere mamma a livello di varafondaio dell'iran e continua a diminuire ma perché questa è una cosa che non comprendo il pil perché c'è una situazione economica mondiale brutta situazione economica mondiale brutta allora dobbiamo cominciare a cazzo dovrò fare dei debiti dovrò fare dei debiti e non pochi introiti delle tasse qui aumenterebbero però aumenterebbe anche la disoccupazione ecco questo potrebbe anche essere bello perché aumenterebbero gli introiti tra l'altro questo non costa per cui questo l'avvio subito anche se ci impiega tantissimi giorni non importa però questo non ha costo fondamentalmente e qua c'errebbe un bel aumento però cosa cazzo costa non costa tanto faccio un minimo di debito ha un mantenimento che è fastidioso che è abbastanza fastidioso però andrebbe ad aumentarmi il pil questo mi interesserebbe assai mi interesserebbe assai però 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 costa sentite facciamo debito è che non sono neanche in positivo è questo che mi preoccupa hai capito eh no ho sbagliato sbagliato tasto volevo andare nella borsa valori stanno diminuendo sempre di più allora per esempio potremo provare a migliorare le relazioni con l'India avviamo le relazioni con l'India visto che abbiamo diversi punti azione questo ci permetterebbe di guadagnare un qualcosina di più potremo farlo anche con la Francia oddio la Francia ha fatto una sua borsa valori e infatti quindi questo deve andare fuori dai coglioni infatti guadagniamo zero niente lo facciamo con la Turchia di migliorare di migliorare i rapporti e vedremo di guadagnare un qualcosina di più ok India migliorato Paraguay ora blocco del Brasile maledizione adesso mi ci vuole qualche giorno per poter vedete ci vogliono dei giorni per poter raggiungere un nuovo mercato e lo faremo solo che cazzo buttiamo dentro adesso sarà un bel problema ok siamo ritornati ad essere in positivo migliorato anche le relazioni con la Turchia molto bene abbiamo bisogno adesso di un nuovo slot programma abbiamo parecchio malcontento però allora cerchiamo di andare un attimo con calmina niente niente qualcosa che mi richieda un mantenimento possibilmente anzi anzi anche questo richiede mantenimento soprattutto tra l'altro poi di denaro questo ci starei anche dentro però mi farà guadagnare solo punti e non mi interessa questo lo stiamo già sviluppando eh no c'è un cazzo da dire c'è un cazzo da fare adesso qua a livello economico vediamo un pochino missioni diplomatiche rete di spionaggio allora no questo non è male non ha un mantenimento enorme guerra monetaria relazioni col mondo meno 5 però crescita del pil più 5 0 per cento interventismo più 2 il mondo non mi vedrebbe molto bene ma d'altronde quando mai si vede bene la la russia allora un più 3 obiettivo interventismo meno 2 risorse naturali aumenterebbero le ambasciate decrescita del valore di guerra fondaio uh questa è una figata questa è molto bella anche se non sto facendo niente di guerra fondaio adesso attualmente puntiamo sulle forze armate qui dovremmo anche iniziare a conquistare ragazzi però c'è un mantenimento monetario tranne che qua 12.000 puttana come costa ma dobbiamo puntare sulla borsa ragazzi c'è poco da fare dobbiamo puntare sulla borsa allora avviamo intanto questo giusto per non stare con le mani in mano le tasse io le tengo basse perché voglio comunque avere un pil elevato siria bancarotta trattato di pace ok allora ragazzi io direi che come prima puntata è andata abbiamo dovuto la prima puntata è stata un attimo così di osservazione un attimino della russia delle politiche che già ha attuato di quelle che dovrà attuare stiamo un pochino perdendo di punteggio siamo sotto alla germania ma adesso cercheremo di scalare ulteriormente non vi preoccupate stiamo cercando di migliorare il profilo economico solo che servono veramente tanti soldi per poterlo fare e adesso stiamo cercando pian pianino di migliorare questo aspetto un po' economico guadagneremo un pochino di più dalle tasse intanto fra parecchi giorni in realtà e vedremo di migliorare le prossime elezioni ci saranno a breve ci saranno a breve e siamo decisamente puntati verso l'autoritarismo ma c'è meno controllo c'è meno militarismo stiamo cercando ragazzi stiamo facendo quello che possiamo con quello che abbiamo ok per cui niente se avete qualche suggerimento come sempre ragazzi siete ben accetti in descrizione si scusate tra i commenti scrivetemi i vostri suggerimenti io vi ricordo come sempre ragazzi che questo è un gioco per cui stiamo soltanto divertendoci per cui ci stiamo provando ok almeno quantomeno e niente ragazzi noi ci vediamo come sempre al prossimo video state in campana alla prossima ciao 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 ciao